Ancora una volta a Piacenza Expo una rassegna che stupisce e meraviglia. Molti eventi in un evento affascinante, coniuga le esigenze del grande pubblico come quello di un elit di appassionati. Negli spazi grigi, generalmente grigi, i segni della genialità di un percorso raro, unico, grumi e frammenti di una stagione creativa che appartiene al mondo intero, colori solari della luce del giorno. Tutto testimonia la bellezza e l'eternità del bello. Si chiama Sogno d'Oriente ed è un festival di magia, danza e cultura orientale e medio orientale. Tanti stand che vendono prodotti tipici di India, Giappone, Marocco, Egitto, Thailandia e Cina per provare la ristorazione, per vedere gli spettacoli, spettacoli di danza Bollywood, danza orientale, la gara di cosplayer, che sono quelli che si vestono dal cartone animato giapponese, la vestizione del kimono, le danzatrici dello Sri Lanka e tantissime altre cose che riguardano la cultura e la tradizione di questi paesi. E anche per vedere le esibizioni delle arti marziali. E per finire? Domenica ci sarà anche la distruzione del mandala, che lo stanno realizzando in questo momento i monaci tibetani proprio all'interno del padiglione e verrà distrutto sul palco in segno di buona fortuna e buon auspicio.